Dottor Monducci, il rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell'Istat si è arricchito di nuove informazioni. Qual è la loro utilità per l'analisi del sistema produttivo italiano? Queste nuove informazioni danno conto della complessità della struttura produttiva, delle modalità di internazionalizzazione e quindi migliorano notevolmente la nostra capacità di analisi del sistema globale. Soprattutto nel caso delle imprese questo è sempre più importante perché le dimensioni della competitività tendono ad ampliarsi e quindi un ampliamento degli strumenti di misurazione sicuramente migliora la nostra capacità di analisi. Il modello di specializzazione italiana a fronte delle recenti crisi internazionali funziona ancora? Quello che è emerso dal rapporto per quanto riguarda il modello di specializzazione è che effettivamente c'è stato un contributo positivo del nostro mix produttivo. Quindi l'Italia ha beneficiato rispetto ad altri effetti della specializzazione. Quindi in questo caso nella fase di rallentamento ciclico c'è stato un effetto positivo proprio dovuto al modello di specializzazione.